Salve gente! Oggi parleremo di due cliché che vi consiglio di evitare, però parto, come spesso accade, con una premessa preziosa, ovvero la scrittura, la letteratura, la narrativa, insomma, non è matematica, quindi ogni consiglio è sempre relativo. Dunque, è chiaro che non è vietato dalla legge utilizzare questi cliché, questi stereotipi, però, ecco, se li utilizzate, come hanno già fatto tutti, in maniera banale, sono proprio bruttarelli. Il primo di questi due cliché che vi sconsiglio è il diverso. Cosa intendo? Non nel senso di inclusione o rappresentazione, anzi, quello usatelo assolutamente, ma spesso mi capita di leggere nei datiloscritti inediti di aspiranti autori questo tentativo di creare un personaggio così unico, così diverso da tutti gli altri. Lui non è come gli altri, lui è diverso. Per esempio, questo accade molto con le Mary Sue, di cui ho già parlato, a cui di solito si attribuisce la passione per la lettura, il che non è un problema in sé. Per carità, se il vostro personaggio ama leggere, ben venga, cioè mi fa piacere, però il fatto di amare la lettura non ci rende dei diversi, ragazzi. Cioè, tutti noi che siamo qui amiamo la lettura, tanta gente la ama, non è così raro. Sì, a tutti noi spiace che non sia più diffuso, non sia più diffusa questa passione, sicuramente sarebbe bello se lo fosse. Però vedere oggi come oggi una scena di una scuola in cui prendono in giro una ragazza perché lei legge, a me fa un po' impressione. Poi questo stereotipo viene sempre spinto al ridicolo, fino al ridicolo, perché non solo questa ama leggere, ma lei non si trucca mai, lei non ama i vestiti, lei non si lava da meno, non si ve, cioè va in pigiama a scuola perché lei è diversa. Cioè, non è come le altre ragazze che sono tutte delle imbecilli, schifose, che si mettono le minigonne, no, lei invece è pura, casta ed è diversa. Perché lei ama i valori tradizionali, cioè lei è una un po' l'antica che tutti prendono in giro perché non si trucca e non si veste bene. Ora, non dico che questo non sia vero, però chi scrive questo di solito ha una certa età, non nel senso che è vecchio, ma magari ha la mia età, per esempio. Ma, se il romanzo è ambientato ai giorni nostri, ricordiamoci che il mondo cambia, che i ragazzini oggi non sono esattamente come eravamo noi da ragazzini, per esempio. I ragazzi, a dire il vero, sono i lettori più accaniti oggi, quindi francamente immaginare che una legge un romanzo e viene presa in giro perché viene vista con un libro in mano, cioè, sarebbe stato ridicolo anche quando ero ragazzina io, se devo essere sincera, ma oggi come oggi mi pare ancora più bizzarro in sé. Magari riuscirete a costruire intorno a questo una situazione più o meno credibile, magari la prendono di mira per altri motivi e in mezzo c'è anche questo. Però, ecco, di solito il personaggio diverso, tra virgolette, che non è diverso per niente, viene fatto prendere di mira perché è meglio degli altri. Cioè, c'è questa volontà, no? Segreta da parte dell'autore di dire, guarda quanto è migliore questo personaggio rispetto a tutti gli altri che sono tutti scemi. Questo crea una vera e propria antipatia nei confronti di questa persona che è tanto buona, tanto giusta, passa tutto il suo tempo a leggere. Cioè, è una ragazza, magari un giorno si trucca, non fa niente, non vuol dire che sia stupida. E questo fa un po' passare il vostro pregiudizio, che non è bello. Lo stesso vale per un personaggio maschile, se vogliamo, che magari sarà appassionato di videogame, perché poi ci sono sempre, non è la ragazza appassionata di videogame, è sempre il ragazzo, e anche per questo, questo verrà bullizzato. Ma, gente, ormai con i videogame ci giocano pure i vecchi, cioè, non è una cosa per cui veniamo bullizzati, ma dove? Ma dove l'avete visto? Ripeto, io sono una donna, sono stata una ragazza che giocava con i videogame, anche quando non ci giocava nessuno, e non mi è mai capitato di venire bullizzata per questo, o di vedere qualcun altro subire bullismo per questo. Ripeto, non dico che non sia mai capitato, o che non possa capitare, però rendetevi conto che non è così automatico. Se il vostro protagonista fa il programmatore, o magari è un adolescente che ama programmare nel tempo libero e sta creando un videogame, cioè, i suoi amici magari potranno anche incuriosirsi su quello che sta facendo, è una cosa carina e interessante, non automaticamente lo tratteranno da diverso per questo, non fa un po' ridere? Cioè, non state un po', come dire, santificando una vostra passione? Se voi giocavate con i videogame e qualcuno vi prendeva in giro per questo, magari i vostri amici non lo facevano e vi sentivate da soli, appunto, ricordatevi che uno, il mondo cambia, quindi date un'occhiata a come funziona oggi magari, e due, non è automatico, cioè, mi spiace che vi sia capitato, ma non è sicuro che capiti a tutti quelli che amano i videogame. Ma, mamma mia! Lo stesso vale per trucchi, vestiti, capelli, cose così. Allora, di solito, nella realtà, purtroppo, viene preso di mira chi spicca per qualcosa. A volte sono delle stupidaggini assolute, perché sono dei bambini, sono dei ragazzini e prendono di mira con cattiveria, allucinante. Una persona che, magari, viene da una famiglia poco abbiente, ecco, cioè, che non ha molti soldi e quindi, non lo so, si mette gli stessi vestiti tutti i giorni. E una persona che si crede superiore agli altri, perché lei legge e gli altri, invece, vanno dal parrucchiere, è un'idiota. A me è capitato di leggere questi personaggi diversi e o ridere, oppure aspettarmi che nel corso della trama ci fosse una loro crescita. Perché è chiaro che se uno parte così, ha bisogno di crescere. Non che venga confermato che solo lui o solo lei ha capito tutto della vita perché legge. Altri esempi sono i personaggi adolescenti che dicono di essere diversi da tutti gli altri. E in realtà sono solo adolescenti, come tutti gli altri. Ok, l'adolescenza è difficile, secondo me è il periodo peggiore di tutta la vita, se vi devo dire la verità. È un casino, quindi è credibile che l'adolescente si senta unico e diverso, perché capita a tutti noi. Cioè, l'adolescenza è proprio quello, no? È un momento in cui cerchiamo la nostra identità e ce la dobbiamo ancora costruire. Quindi è normale che ci guardiamo intorno e diciamo, io sono da solo, sono diverso da tutti. Come faccio a integrarmi, come faccio a fare parte di questo gruppo, a essere felice, a trovare un senso alla mia vita. Però non è che si risolve tutto perché dico, beh, io leggo, quindi sono meglio. No! E questo, se vogliamo trasportare questo discorso in un mondo più adulto, può valere per qualsiasi caratteristica. Che spesso appunto è una caratteristica che viene dall'autore o dall'autrice e che viene assunta come positiva in assoluto. Ce l'hai solo tu e quindi sei più intelligente di noi. Ma non è maturo questo discorso, non so se mi spiego. Magari la vostra protagonista, che può essere anche una donna adulta, non è un amante dei rapporti occasionali, vuole una storia seria, vuole l'amore della sua vita, ma questo non la rende migliore della sua collega che invece cambia fidanzato una volta alla settimana. Non è così, come dire, lineare la questione. Ma voi, da autori consapevoli e intelligenti, potreste approfondire le due situazioni e cercare di comprendere come mai questi due esseri umani hanno trovato soluzioni diverse per riempire la solitudine. Cioè, una ha deciso che cerca l'anima gemella, conquistare per tutta la vita, e l'altra invece dice no, io cambio ogni settimana perché così non mi sento sola. Può essere interessante approfondire, ma se decidiamo solo che quella è una bruttissima persona che deve morire male e invece la tua protagonista è una santa, questo è noioso. L'altro cliché di cui volevo parlare è quello del prescelto invece, no? Che un po' somiglia a questo tipo di diverso, perché anche lui è speciale. Ora, il prescelto è uno stereotipo molto diffuso, in effetti, in un certo tipo di storia. È di solito un giovane che improvvisamente si scontra con questo destino che ha deciso per lui che lui deve salvare il mondo, ha dei poteri magici, ha qualcosa di speciale. Può essere magia, può essere il destino, può essere il caso, può essere un po' qualsiasi cosa, no? Però il prescelto cosa fa? Ha nelle sue mani all'improvviso, così dal nulla, un enorme potere. Ora, la parte interessante di questo dovrebbe essere proprio come questa persona apprende questa situazione. Lui o lei è un normalissimo essere umano che all'improvviso scopre di essere qualcosa di più. E quindi, ok, può darsi che questo lo trasformi in un pallone gonfiato, però in questo caso, per esempio, mi viene da pensare alla storia infinita. Bastian, che, va bene, è un po' il prescelto, no? Quando arriva in questo mondo di fantasia e deve salvare l'imperatore... Insomma, sì, è un po' il prescelto. Però cosa gli succede? Non vi voglio fare spoiler, se non l'avete letto, se non l'avete letto, leggetelo. Cosa fate della vostra vita, se non avete letto la storia infinita, non lo so. Però nella seconda metà del libro si parlerà moltissimo del rapporto di Bastian con il potere. Lui, per conquistare questo potere e comunque aderire alla sua funzione di prescelto, dovrà rinunciare a delle cose molto importanti per lui, che man mano lo faranno discendere praticamente nel nulla, cioè lo svuoteranno, è un po' tutto su questo il libro, no? Quindi il suo ruolo non è quello di essere un pallone gonfiato che sta antipatico a tutti perché ha i poteri ed è il prescelto, ma ci fa un po' riflettere sul potere. Ora, è chiaro, non è che dovete scrivere la stessa cosa rispetto alla storia infinita, per forza. Potete scrivere quello che diamine volete, però appunto cercate di non essere banali, cercate di fare in modo che questo prescelto viva il suo ruolo, e non è che non ha nessuna reazione. Io leggo spesso storie così dove il prescelto si piglia i poteri e non gliene frega nulla e diventa onnipotente, ma non è più un essere umano perché non ha alcuna reazione emotiva a questo, non c'è nessuna progressione del personaggio, non impara niente, non cambia in nessun modo, e quindi che senso ha? Ricordatevi che la parabola del prescelto, che viene un po' dalla narrativa fantastica, ha lo scopo di essere una metafora della crescita dell'essere umano, di fatto, no? Per cui questo bambino in fasce, che improvvisamente si trova con delle responsabilità più grandi di lui sulle spalle, deve imparare a gestirle, a superarle. È quello che accade a tutti noi nella vita. Però, appunto, la gestione di questo potere che lui ha in mano deve avere un difetto, deve avere un pericolo, un rischio, qualcosa a cui lui deve rinunciare. Insomma, dobbiamo imparare a non usare dei cliché vuoti, sterili, che non portano a nulla e non dicono niente, ma invece magari utilizzarli, perché comunque gli stereotipi, i cliché, le cose che abbiamo sentito e risentito, possono essere strumenti molto utili per scrivere cose nuove, ma, appunto, ci deve essere qualcosa di nuovo, cioè dobbiamo usarli per creare il nuovo. Dunque, nulla. Questo breve video voleva solo essere una riflessione su questo. E concludo dicendovi, non date per scontato di non aver mai usato degli stereotipi vuoti. Quello del diverso io lo vedo tantissimo. E' chiaro che se un autore è molto ingenuo, c'è proprio tanto. Però, a volte, è anche solo una sfumatura. Cioè, se il vostro personaggio lo ritenete positivo in quanto diverso, interrogatevi su in che senso. Cioè, perché è meglio degli altri? E lo deve proprio essere? Comunque, non mi dilungo ulteriormente. Vi ringrazio per avermi guardato. Come sempre, se avete riflessioni, dubbi, domande, scrivetemelo nei commenti. Grazie e al prossimo video. Ciao!